Taglio di Po ha scelto di contribuire e fare un'iniziativa di solidarietà immediatamente dopo gli eventi del sisma del 2016 e in quell'occasione abbiamo deciso di donare insieme a tutte le associazioni che hanno contribuito all'iniziativa di solidarietà di donare il raccolto, l'importo sono 12.000 euro quasi tutte le associazioni del nostro comune hanno contribuito l'evento più importante è stato fatto in occasione di una cena che è stata fatta con prodotti tipici della zona hanno contribuito poi anche le attività commerciali oltre anche a numerosi privati che senza dire nomi o cosa hanno comunque contribuito in maniera solidale a questa iniziativa